Sono arrivate oltre 30 auto d'epoca a testa di lepre all'interno dello spazio della cooperativa dove hanno effettuato una sfilata per essere sottoposti al verdetto di una giuria. Auto e vespe con qualche annetto sulle spalle. Sì, ce l'avevano chiesto gli appassionati di macchina d'epoca di avere un punto di riferimento. La cooperativa ha accolto la loro richiesta e siamo un po' insieme anche perché dopo tutti quei periodi di Covid c'è bisogno di stare insieme. Testa di lepre oltre a dimostrarsi come sempre un polo centrale per le nostre realtà agricole con questa iniziativa sta diventando anche un polo d'aggregazione quindi valorizza sia l'aspetto agroalimentare del territorio ma anche un momento di aggregazione e di valorizzazione del territorio. Una rassegna automobilistica che vuole essere uno dei tanti appuntamenti per dare maggiore visibilità al centro di testa di lepre. Spero di sì perché sono quelle cose belle che portano per di movimento sulla cooperativa. Un modo come l'altro per festeggiare questo carnevale con le nostre autostoriche. Una bella giornata, tanti amici e speriamo che questo nostro incontro possa ripetersi mensilmente. Qual è il vostro obiettivo facendo questa iniziativa? Beh, far rivivere un pochino quello che avevamo detto con gli altri raduni ovvero arrivare a fare una rievocazione del firme di sorpasso che è stata girata qua su Via dell'Arrone.